Ritorniamo a parlare ovviamente della situazione Allegri, sto a far giro giro tondo perché non so dove posizionarmi con esattezza. Ritorniamo a parlare di questa cosa perché negli ultimi giorni, ovviamente dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League, comunque scatta un po' il nome toto allenatore. Vi ho portato già un contenuto in cui avevo detto ragazzi, Agniele aveva confermato Allegri, aveva detto no proseguiremo con Allegri, era perplessa la tifoseria bianconera perché avrebbero voluto un cambio di guida tecnica anche se c'è chi sostiene comunque che questa sorta di dichiarazioni da parte di Agniele possano solamente rappresentare una bugia, una facciata o una menzogna solo per non destabilizzare l'ambiente. Tuttavia molti mi hanno detto Matt ma tu non vorresti che la guida tecnica venisse cambiata, cioè non vuoi un cambio di allenatore nonostante la Juventus avrebbe potuto comunque fare di più all'interno del contesto della Champions League. Ovviamente ragazzi la risposta è nì, nel senso perché nì? Perché io il cambio di allenatore lo voglio, nel senso dal momento in cui la Juventus decidesse di cambiare allenatore e di portare una ventata d'aria fresca all'interno della Juve io non comunque mi opporrei, ci mancherebbe altro. Ovviamente cinque anni con Allegri è normale, le cose cambiano, le persone cambiano, i modi di giocare cambiano e di conseguenza bisogna anche provare a cambiare, a migliorare possibilmente. Ed è proprio su questo punto diciamo che mi preme comunque ribadire le cose. Allora, l'unico allenatore che io vorrei alla Juventus attualmente nel panorama calcistico mondiale che voi mi chiedete, ma tu chi vuoi alla Juventus? Io vorrei Pep Guardiola. Lo so che forse esagero un po', forse è un nome troppo grande a livello di stipendio, prende qualcosa come 20 milioni di euro all'anno, però comunque devo dire ragazzi che è un giocatore che porterebbe, un negatore scusate, che porterebbe comunque una ventata d'aria fresca, porterebbe tanto 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 a livello nuovo di filosofia del gioco, porterebbe comunque tanto anche a livello di entusiasmo, perché comunque Guardiola non è come Guardiola è ingaggiato sulla partita della Juventus, porterebbe una ventata di entusiasmo all'interno del sistema bianconero, come dice Caressa, una sorta di trottola, dice alcune volte Caressa, quando parla di entusiasmo. Per quanto riguarda invece la situazione relativa ad Allegri, le parole di Agnelli che hanno detto no ma guardate Allegri rimane, possono essere interpretate sia come verità che come bugie di circostanza. Il problema è che se deve andare via Allegri, io voglio che qualcuno venga a migliorare ciò che ha fatto Allegri, cioè qualcuno che deve arrivare in bianconero deve essere capace di vincere comunque il campionato praticamente tutti gli anni, deve essere capace di vincere la Coppa Italia tutti gli anni, tranne quest'anno l'abbiamo vinta sempre, e deve comunque essere capace di farci vincere in Europa. Quindi chiunque dovesse arrivare alla Juventus sarà chiamato comunque a un lavoro grande, sarà chiamato a un lavoro extra e sarà chiamato a fare molto molto meglio di Allegri. Perciò ho fatto il nome di Guardiola, perché secondo me Guardiola per le caratteristiche che ha, per la filosofia di gioco che ha, per il progetto della Juve, secondo me è quello più indicato. Cioè se voi potete mandare via Allegri e mettere Guardiola, io sono la persona più felice del mondo, perché comunque andiamo a toglierci un allenatore che ha fatto tanto bene alla Juve, l'ha rispettato tutto quello che ti pare, ma evidentemente sta incontrando delle difficoltà a livello di gioco, e lo andiamo a sostituire con un allenatore fresco già carico di esperienza, però se poi mi devo togliere Allegri e devo andarmi a prendere Gasperini, Gianpaolo, con tutto il rispetto ragazzi vorrei non farlo, cioè sostituire un allenatore vuol dire fare un salto di qualità, quindi dal momento in cui tu sostituisci Allegri vorrei che venisse preso un allenatore capace di farti fare un salto di qualità, quindi un allenatore che abbia una mentalità proprio più spregiudicata, più europea, perché è vero Gasperini, diciamo perché l'Atalanta gioca bene con Gasperini, ok ma Gasperini ha sempre fatto un tipo di gioco frizzante anche quando stava al Genoa, molti anni fa, è andato all'Inter post triplete, quel gioco non si è visto nemmeno l'ombra, cioè alcune volte ha dato la sensazione di essere un giocatore, o meglio un allenatore, continuo a dire giocatore, perdonate, mi sto un po' fuso, un allenatore praticamente per piccoli club, che comunque ambiscono a dei risultati al di sopra delle proprie possibilità, però poi quando gli metti una macchina come quella della Juve in mano, secondo me potrebbe trovare delle difficoltà, quindi se parte a Glegri, a me piacerebbe veramente molto Guardiola, altrimenti sono problemi, perché ribadisco, chiunque dovesse arrivare dopo Allegri avrà il peso di fare almeno quello che ha fatto Allegri, quindi almeno devi vincere tutti gli anni lo scudetto, e almeno devi vincere tutti gli anni la Coppa Italia, praticamente quasi, perché ne abbiamo vinte 4-5, poi devi fare meglio in Champions League, quindi devi arrivare in finale, devi vincerla questa benedetta finale, e comunque devi superare sempre, praticamente, sempre almeno gli ottavi quarti di finale di Champions, l'allenatore per me giusto, ribadisco, è Guardiola, non vorrei che venisse un allenatore che non ha esperienza sulla macchina della Juve, cioè leggo gente che vuole Giampaolo, gente che vuole, veramente ragazzi, sono ottimi allenatori dal punto di vista tattico, ma non sono allenatori che sanno gestire un gruppo come quello della Juve, fatemi sapere nei commenti.